Ciao a tutti. È con tristezza che comunico la scomparsa del famoso erudito, storico e attivista, ex testimone di Geova, James Penton, all'età di 92 anni. Ho ricevuto questa notizia ieri da un caro amico. Marvin James Penton, nato il 27 aprile 1932, è stato un professore emerito di storia all'Università di Lethbridge, a Lethbridge, Alberta, Canada, e autore di tre libri sulla storia dei testimoni di Geova. Sebbene cresciuto nella religione, fu espulso nel 1981 per motivi di apostasia, dopo aver criticato alcuni degli insegnamenti e della condotta della leadership della religione. La sua espulsione attirò l'attenzione dei media nazionali. Credo che qui in Brasile Penton sia più conosciuto per il suo libro Apocalypse Delayed o Apocalisse rimandata in portoghese. Secondo Wikipedia, questo è un riassunto di come è venuto ad abbandonare l'organizzazione dei testimoni di Geova. Apre virgolette. Penton, mentre serviva come anziano nella sua congregazione di Lethbridge alla fine degli anni 70, sviluppò preoccupazioni riguardo all'enfasi della società Torre di Guardia nell'esigere che i testimoni si impegnassero nella predicazione pubblica e a ciò che vedeva come una crescente severità e intolleranza nel trattamento dei membri della religione da parte di coloro che erano in autorità. Il 10 agosto 1979 inviò una lettera di otto pagine alla società, dettagliando le sue preoccupazioni. Aprì la lettera dicendo che avrebbe scritto, con amore ma con franchezza, su quello che crede di essere il problema centrale nella nostra organizzazione, la cosa che l'ha resa malata e per cui il corpo direttivo deve assumersi molta responsabilità diretta. Un passaggio della lettera, apre virgolette, è l'enfasi esagerata e inappropriata della società sull'opera di predicazione che ha ammalato, sta ammalando e continuerà ad ammalare l'organizzazione, finché non sarà messa nella sua giusta prospettiva. Sebbene sia un aspetto necessario della testimonianza della congregazione cristiana per il mondo, non è più importante di qualsiasi altra opera cristiana delineata nelle scritture, «Molti sono stanchi fino alla propria morte spirituale, a causa del superpietismo e della giustizia per il lavoro che permeano l'organizzazione». Wikipedia continua a dire «Penton ha fornito esempi di quelle che ha sostenuto essere distorsioni dei testi del Nuovo Testamento per sostenere gli insegnamenti della società Torre di Guardia sulla predicazione di casa in casa». Ha criticato la nomina degli anziani, principalmente basandosi su registri di servizio di campo, ed escrisse le visite dei sovrintendenti di circuito come «ispezioni», «militari». Ha anche cercato una nuova enfasi sulla giustificazione per fede. La lettera, che è stata distribuita tra alcune testimonianze a Lethbridge, ha provocato, accuse, all'interno della gerarchia dell'organizzazione secondo cui Penton, stava denigrando e opponendosi all'opera di predicazione. Questo secondo affermazioni, e portò a discorsi incisivi dei sovrintendenti di circuito e distretto a Lethbridge, avvertendo che chiunque suggerisse che il corpo direttivo della religione avesse commesso, tra virgolette, molti errori sull'argomento, stava mentendo, stava bestemmiando contro l'organizzazione e cercando di distruggerla. Un sovrintendente disse a un'assemblea «Guai all'uomo che parla male dei rappresentanti di Dio. Può diventare come Miriam e essere colpito da lebra e può perdere la vita?» Un altro sovrintendente disse che coloro che suggerivano che il corpo direttivo fosse in errore erano persone ingiuste che «morirebbero» nel giorno del giudizio di Dio. L'autore James Beverly osservò «Non è sempre che i predicatori usano la minaccia della lebra per mantenere il gregge in riga». Ha detto che la maggior parte dei testimoni informati a Lethbridge avrebbe indovinato che i commenti erano diretti principalmente contro Penton. Penton si dimise da anziano nel dicembre del 1979, ma un giorno dopo ritirò le dimissioni. Ricevette una risposta di una pagina alla sua lettera dalla sede della società nel gennaio del 1980, che lo esortava a modificare il suo punto di vista o a rimanere in silenzio? Nonostante i suoi protesti di essere vittima di una caccia alle streghe e di ingiustizia per aver espresso la sua opinione su una religione che un tempo aveva salutato come una difensora della libertà di espressione, Penton fu disassociato o rimosso dai testimoni di Geova per apostasia nel febbraio del 1981. La sua espulsione scatenò uno scisma tra i testimoni di Lethbridge, poiché 80 sostenitori, circa un quarto di tutti i membri locali, interruppero i legami o furono espulsi dalla religione. Gli eventi che circondarono la sua espulsione ricevettero ampia attenzione mediatica, inclusa la copertura televisiva nazionale, e furono oggetto di un libro del 1986, Crisis of Allegiance, o Crisi di Lealtà, di James A. Beverly, professore assistente all'Atlantic Baptist College di Moncton, New Brunswick, Canada. I libri di Penton possono essere divisi in due fasi. Mentre era membro dei testimoni di Geova, scrisse, Geova's Witnesses in Canada, Champions of Freedom of Speech and Worship, o Testimoni di Geova in Canada, Difensori della Libertà di Espressione e Adorazione, nel 1976, che era una storia della lotta della religione per la libertà religiosa sotto la legge canadese, nel quale sosteneva che molti degli attacchi politici e teologici alla società Torre di Guardia erano estremamente ingiusti. Dopo la sua uscita dai testimoni di Geova, scrisse Apocalypse Delayed, The Story of Jehovah's Witnesses, o Apocalisse Adiado, La Storia dei Testimoni di Geova. Curiosamente, iniziò a scrivere questo libro mentre era testimone di Geova, ma per paura di ritorsioni, abbandonò il progetto per un po'. Subito dopo la sua espulsione dall'organizzazione, riprese a scrivere il libro, e lo pubblicò nel 1985. Il suo ultimo e più recente libro, del 2004, è Geova's Witnesses and the Third Right, Sectarian Politics under Persecution, Testimoni di Geova e il Terzo Reich, Politica settaria sotto persecuzione. Questo libro mette in evidenza quelle che lui afferma essere discrepanze tra la storia ufficiale della religione, riguardo alla sua opposizione al nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale, e fatti documentati. Penton descrive che i testimoni hanno cercato di riscrivere la loro storia precedente sotto il governo nazista, occultando le prime proposte ad Adolf Hitler e marginalizzando l'antisemitismo del gruppo. Il fallimento di questi sforzi e la persecuzione da parte del governo, afferma Penton, hanno portato al ritorno dei testimoni, nel 1933, alla loro posizione precedente di opporsi ai nazisti. È interessante che io ricordi di aver visto questi due libri di Penton nella biblioteca della traduzione di Bethel. E mi riferisco al libro Testimoni di Geova in Canada, e a quest'ultimo Testimoni di Geova nel Terzo Reich, anche, se questi libri sono stati scritti da un, tra virgolette, apostata. Fino alla fine della sua vita, James Penton ha difeso. Il cristianesimo. Si riuniva con il gruppo Berian Pickets e la sua speranza, quindi, era quella di essere con il Signore. È il voto di questo canale che egli sia entrato, nella gioia del padrone.